ok ciao ragazzi è qualche giorno che mese quasi che non pubblico un video oggi siamo qui vi pubblico una bella unboxing e prime impressioni su redmi 9 a t un piccolino di casa redmi quindi di casa xiaomi sia omi chiamatela come volete comunque un telefono che direi fascia bassa quindi il prezzo accettabile carino discreto e dimensioni giusti 32 giga 2 giga di ram a tutto quello che serve per il prezzo che costa quindi passiamo al video eccoci qui apriamo la scatola del nostro redmi 9 a t come dicevo prima è un telefono di fascia bassa quindi non ha un grande posto all'acquisto ma in compenso a uno schermo abbastanza ampio adesso vediamo cosa c'è nella scatola e poi parliamo del telefono insieme pan aperto pronti via vi trovate il vostro redmi 9 a t frontale una fotocamera da 13 megapixel schermo ampio 32 giga di di memoria 5000 milliampere 653 lo schermo in orizzontale quindi per così adesso andiamo un po più nello specifico 2 giga di ram ma vediamolo bene sempre nella scatola si trova oltre a libretto delle istruzioni in questo caso non c'è dentro la cover fast charger che non è fast quindi solo charger cavetto micro usb per la ricarica e basta come al solito le cuffie redmi non le mette questa però ci ha già abituati così clip per rimuovere la scheda sd va bene andiamo a vedere un po le caratteristiche come vi dicevo nell'introduzione del video questo è un telefono che qualità per il prezzo che costa e non gli manca niente partiamo subito con di chiara miui 12 ed è android 10 a un touchscreen quindi o in orizzontale da 6.53 bello ampio anche per chi deve giocare e ha una risoluzione di 2340 per 1080 pixel quindi a livello di funzionalità non è per niente male allora redmi 9 at è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità perché per la fascia di prezzo che a 13 megapixel la fotocamera che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 4.128 per 3.096 pixel e video in full hd con risoluzione 1920 x 1080 pixel quindi per la fascia di prezzo direi che come competitor ha poco e niente il discorso di cosa offre miui 10 con scusatemi android 10 con la miui 12 fondamentalmente il telefono ha delle dimensioni abbastanza ampie per chi gioca perché 163,32 x 77.01 e lo spessore di 9.1 mm pesa 198 grammi quindi abbastanza leggero da tenere in mano ha una buona batteria e andando proprio nella parte tecnica quindi su quello che possiamo diciamo il motore di questo telefono am è da 3 giga e 32 giga in questo caso di memoria espandibile non credo che venga venduta un'altra versione quindi con più giga però 32 giga con una memoria da 32 giga diventano 64 allora appunto come diceva prima memoria espandibile è un ips quindi un lcd con 16 milioni colori il vetro è un gorilla glass di serie 3 andando un po più nello specifico della fotocamera con diciamo che lo fa software senza avere altre fotocamere perché come vedete a una fotocamera sola però fa 13 megapixel più 8 quindi l'effetto bocchè l'effetto con la sfocatura sullo sfondo e 5 più 2 la frontale abilitatore ottico digitale quindi va bene e la frontale usata in modalità tradizionale è di 8 megapixel il telefono registra video appunto come dicevamo prima in full hd 30 fps quindi di buona qualità la videocamera frontale sempre in full hd che per il prezzo che costa di solito non ce l'hanno sempre in full hd e con 30 fps la fotocamera anche l'hdr quindi tanta roba una parte a cui io do molto rilievo è il fatto che questo telefono comunque a 5 mila milliampere di capacità della batteria quindi ottimo ottima capienza e ottima durata nel tempo della batteria ok quindi andiamo a parlare un po più delle cose che ci interessano ovviamente stiamo parlando di un telefono di fascia bassa la fotocamera non sarà sicuramente delle migliori non vi potete aspettare una fotocamera di un top di gamma ma non è neanche così male le prestazioni stiamo parlando appunto di un telefono di fascia bassa saranno abbastanza veloce come vedete ma non velocissimo ovvio che se spendi questi soldi per un telefono non spendi non spendi mille euro non puoi avere le stesse identiche prestazioni penso con questo siete tutti un po d'accordo con me però come potete vedere non è poi neanche così male allora diciamo che come telefono si va un po a scontrare con il un secondo solo come vi stavo dicendo come telefono si va a scontrare con l'unico telefono che più o meno di fascia siamo lì che vedo io è questo che samsung a 20 e e le prestazioni saranno più o meno queste qui quindi ragazzi se volete un telefono più contenuto potete comprarvi una venti e se volete un telefono un po più grande con un monitor più ampio probabilmente forse è meglio se scegliete redmi 9 atti per il resto che dire ci vediamo al prossimo video lasciate un like al video mettete nei commenti quello che pensate ma soprattutto iscrivetevi al canale ciao al prossimo video